La statua di donna in Prato della Valle a Padova ci sarà, a deciderlo la maggioranza dei votanti durante il Consiglio Comunale della città. Nelle ultime settimane in tanti si erano espressi contro questa ipotesi, non per contrarietà alla considerazione femminile, ma per motivi storici che vedrebbero un cambio non da poco in una piazza importantissima come quella del Prato. La decisione ora è definitiva, si tratta solo di scegliere quale sarà la donna che troverà lo spazio tra 78 statue solo maschili. La scelta non sarà semplice e pare che verrà costituita una commissione che dovrà fare le giuste valutazioni e trovare la prescelta.